Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, ben ritrovati. Parliamo di cronaca, partiamo da Paternò nel Catanese dove i carabinieri hanno tratto in arresto un ventenne il quale aveva minacciato di morte gli stessi militari dell'arma per poi tentare di scappare il servizio. I carabinieri di Motta Sant'Anastasia a Paternò hanno arrestato in flagranza un ventenne del posto responsabile di resistenza pubblico ufficiale. Nel corso di un servizio perlustrativo l'equipaggio della stazione di Motta Sant'Anastasia è stato attivato dalla centrale operativa a seguito della chiamata di un cittadino che segnalava una lite in corso in via Biella. Giunti sul posto i militari non hanno riscontrato alcuna rissa, bensì la presenza dell'autore della chiamata al 112, un giovane che non ha avuto neanche il tempo di esporre i fatti perché proprio in quel frangente è sopraggiunto il ventenne che immediatamente senza alcuna remora per la presenza dei carabinieri ha cominciato a inveire contro di lui per aver richiesto il loro intervento. Il ventenne anzi si è scagliato anche contro gli stessi militari ricoprendoli di insulti e minacce di morte, nonché strattonandoli e tentando poi la fuga che è stata però resa vana dai carabinieri che lo hanno raggiunto dopo una corsa a piedi. Il giovane si è quindi gettato a terra minacciando di ucciderli a colpi d'arma da fuoco tanto che visto il suo stato di agitazione i militari lo hanno posto in sicurezza e portato in caserma con l'ausilio di una pattuglia di rinforzo quindi lo hanno posto a disposizione dell'autorità giudiziaria e che ne ha convalidato l'arresto. Ci spostiamo nel Siracusano a Lentini dove un 38enne è finito in manette. Gli agenti della Polizia di Stato lo hanno infatti sorpreso mentre tentava di rubare un'auto in sosta. Vediamo il servizio. Nel mese di dicembre nel territorio di Lentini e Carlentini si sono verificati furti di auto e moto e furti con scasso. Tale recrudescenza di questo tipo di reati ha determinato nella comunità uno stato di allarme e una percezione di diminuita sicurezza. Per fronteggiare tale fenomeno è stato convocato in prefettura un comitato sull'ordine e la sicurezza pubblica che ha determinato un rafforzamento dei servizi di controllo per assicurare la sicurezza di attività produttive e famiglie di tale territorio. L'implementazione dei servizi su disposizione del questore attuata dal commissariato di Lentini e dai carabinieri della compagnia di Augusta inizia a dare i suoi frutti. Nella nottata del 7 gennaio, infatti, gli agenti del commissariato, impegnati nel servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso un uomo mentre tentava di rubare un'auto in sosta. Si tratta di un lentinese di 38 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati di estorsione, ricettazione, rapina, evasione e furto aggravato, il quale è stato quindi arrestato nella flagranza del reato di tentato furto e su disposizione dell'autorità giudiziaria sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Restiamo nel Siracusano, ci spostiamo però a Francofonte dove un 42enne è stato invece tratto in arresto dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Ha infatti sparato alcuni colpi di pistola all'indirizzo di un uomo il tutto per vendicare il figlio. I carabinieri della compagnia di Augusta hanno arrestato un pregiudicato 42enne di Francofonte poiché è ritenuto essere l'autore del tentato omicidio avvenuto la sera del 30 dicembre scorso nel centro siracusano di un pregiudicato francofontese giunto presso il pronto soccorso dell'ospedale di Lentini in gravi condizioni poiché è attinto da due colpi di pistola. Le immediate indagini dei militari dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico dell'arrestato il quale avrebbe agito per vendicare l'aggressione subita dal figlio avvenuta qualche giorno prima, il 26 dicembre colpito al capo da un sasso lanciato dal figlio del rivale. Di qui la spedizione punitiva culminata con due colpi di pistola sparati dall'arrestato uno all'addome e l'altro alla schiena in direzione della vittima che ha riportato gravi lesioni. La ricostruzione dei fatti ha consentito l'emissione di un provvedimento restrittivo a carico dell'autore del ferimento eseguito dai carabinieri che dopo le formalità di rito hanno condotto l'arrestato presso la casa circondariale di Siracusa, Cavadonna. Cambiamo decisamente argomento i controlli effettuati dai carabinieri del NAS di Palermo hanno portato al sequestro di oltre una tonnellata di carne non tracciata tutti i dettagli del servizio. Nell'ambito di servizi predisposti a livello nazionale dal comando carabinieri per la tutela della salute finalizzato a tutela dei consumatori nel periodo natalizio e alla verifica della corretta gestione in materia di sicurezza e igiene delle imprese produttive di alimenti di origine animale i militari del NAS di Palermo nel quartiere Brancaccio Ciaculli del capoluogo siciliano coadiuvati dal personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria della locale ASP e con il supporto dei carabinieri della compagnia di Palermo Piazza Verdi hanno sottoposto a sequestro amministrativo 1.120 kg di carne destinati alla commercializzazione senza che fosse stata attuata correttamente la tracciabilità dei prodotti carnei in modo da garantire la sicurezza della filiera alimentare con possibile rischio per la salute dei consumatori anche in considerazione di alcuni episodi di intossicazione dall'isteria avvenuti nel recente autunno sul territorio nazionale questo ingente quantitativo di carne privo di adeguate informazioni circa l'origine o gli eventuali trattamenti subiti erano stoccate presso uno stabilimento di lavorazione e commercio all'ingrosso di carni verosimilmente destinato all'approvvigionamento di negozi e ristoranti dell'area urbana e della provincia palermitana al termine del controllo sono state combinate al responsabile della struttura sanzioni amministrative per complessivi 11.500 euro i carabinieri del NAS e il personale dell'ASP inoltre hanno proceduto alla chiusura del suddetto stabilimento che non risultava in possesso della documentazione attestante il riconoscimento da parte della comunità europea come prescritto dalle vigenti normative Controlli dei carabinieri del NAS anche nel Trapanese per la precisione a Castelvetrano in questo caso sono stati sequestrati oltre 3.900 litri di olio d'oliva ed è stato sanzionato il titolare di uno stabilimento vediamo il servizio Nell'ambito di servizi predisposti a livello nazionale dal comando carabinieri per la tutela della salute finalizzato a tutela dei cittadini nel periodo delle festività e alla verifica della corretta gestione in materia di sicurezza e igiene delle imprese produttive di alimenti i carabinieri del NAS di Palermo con il supporto dei militari della compagnia di Castelvetrano in seguito ad un'attività ispettiva presso uno stabilimento di produzione e commercio di olio della provincia di Trapani hanno sottoposto a sequestro amministrativo 3.950 litri di olio d'oliva destinati alla commercializzazione senza che fosse stata attuata correttamente la tracciabilità dell'olio circa la sua provenienza e i trattamenti subiti in modo da garantire la sicurezza della filiera alimentare e la protezione della salute del consumatore al termine del controllo è stata combinata al responsabile della struttura una sanzione pari a 1.500 euro Restiamo nel Trapanese ma per parlare dei controlli effettuati dai carabinieri a Mazzara del Vallo controlli che hanno portato alla denuncia di nove persone I carabinieri della compagnia di Mazzara del Vallo nel weekend appena trascorso hanno eseguito una serie di servizi di controllo del territorio che hanno portato alla denuncia di nove soggetti un camerunense classe 92 è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti in quanto sarebbe stato sorpreso accedere a un altro extracomunitario un involucro di carta stagnola contenente hashish sottoposto a perquisizione occultati nei pantaloni sono stati rinvenuti ulteriori tre involucri pronti per essere smerciati un salemitano di 31 anni invece ospite di una comunità è stato denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere resistenza pubblico ufficiale l'uomo in evidente stato di agitazione dopo aver aggredito un altro ospite della comunità si è scagliato contro i militari operanti venendo prontamente bloccato e riportato alla calma a seguito di una perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico a scatto di genere vietato che è stato posto sotto sequestro due soggetti mazzaresi di 47 e 60 anni entrambi gravati da precedenti di polizia sono stati deferiti per furto aggravato di energia elettrica in quanto avrebbero effettuato un allaccio abusivo delle rispettive abitazioni alla rete elettrica pubblica un altro pregiudicato mazzarese attualmente sottoposto alla sorveglianza speciale è stato denunciato per violenza privata danneggiamento e violazione degli obblighi perché a seguito di una lite tra vicini di casa si sarebbe reso responsabile del danneggiamento di un'autovettura violando inoltre gli obblighi disposti dal giudice in merito alla misura di prevenzione personale cui risulta ancora sottoposto altra violazione per la quale è scattata la denuncia è stata quella messa in atto da un 79enne del posto il quale a seguito di un controllo non sarebbe risultato presente nel domicilio dove sta scontando un periodo di detenzione domiciliare un tunisino classe 74 sottoposto al provvedimento di Daspo emesso nel 2021 dalla questura di Trapani parcheggiatore abusivo non avrebbe rispettato il provvedimento venendo così denunciato dai carabinieri nel medesimo contesto operativo durante i controlli alla circolazione stradale sono stati denunciati altri due soggetti sorpresi uno senza patente perché mai conseguita e l'altro alla guida della propria autovettura in stato di ebrezza alcolica con un tasso alcolemico ben superiore ai limiti consentiti dalla legge all'aeroporto di Catania la polizia invece beccato e ovviamente tratto in arresto un uomo che trasportava della cocaina stava per imbarcarsi su un volo per Venezia tutti i dettagli nel servizio nei giorni scorsi presso l'aeroporto di Catania un passeggero con doppia cittadinanza residente a Catania e diretto a Venezia è stato deferito in stato di arresto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Catania poiché è trovato in possesso di tre involucri contenenti un ingente quantitativo di cocaina del peso complessivo di circa 230 grammi il passeggero poco più che maggiorenne al fine di accedere in sala imbarchi transitando dal portale d'accesso utilizzato per i controlli ordinali di sicurezza ha fatto scattare la segnalazione acustica del dispositivo radiogeno che segnalava la presenza di oggetti in metallo sulla sua persona mirati e accurati controlli hanno permesso a seguito di una perquisizione personale sul passeggero di individuare e rinvenire opportunamente celati i tre involucri contenenti la sostanza stupefacente la perquisizione poi esesa anche agli altri effetti personali ha permesso di rinvenire denaro in contante e valuta straniera Restiamo a Catania per parlare dei controlli effettuati in città dai carabinieri controlli che hanno portato a diverse sanzioni tutti i dettagli nel servizio nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di pattugliamento disposti dal comando provinciale carabinieri di Catania per garantire una maggiore sicurezza pubblica e un più capillare controllo del territorio i carabinieri della compagnia di Catania Fontana Rossa con la collaborazione dei colleghi del NAS del dodicesimo reggimento Sicilia e di personale della polizia locale hanno effettuato una serie di mirati controlli del quartiere Nesima e sul litorale della Playa con i controlli alla circolazione stradale per la verifica del rispetto alle norme del codice della strada gli operanti hanno identificato 76 persone controllato 42 veicoli ed elevato sanzioni amministrative per omessa revisione periodica dei veicoli per un importo complessivo di oltre 2.300 euro nel medesimo contesto operativo è stato controllato un venditore ambulante di prodotti ortofrutticoli un 35enne pregiudicato di Catania il quale occupando stabilmente e abusivamente la sede stradale stava vendendo la merce in assenza delle prescritte autorizzazioni e dei requisiti per la vendita degli alimenti l'uomo pertanto è stato sanzionato amministrativamente con un importo complessivo di 1.876 euro mentre tutta la merce è stata sottoposta a sequestro e consegnata in beneficenza a un ente di carità i carabinieri hanno inoltre controllato nel quartiere San Leone un'attività di autolavaggio e un negozio di parrucchiera riscontrandone il regolare esercizio verifiche sono state poi poste in essere anche nei confronti di una decina di soggetti sottoposti a misure restrittive presso le rispettive abitazioni analogamente è stata sottoposta a verifica un'attività operante nel settore della ristorazione Sita nel Viale Kennedy dove a seguito dell'ispezione operata dai militari del NAS è stata riscontrata la detenzione di prodotti alimentari privi di tracciabilità e carenze igienico-sanitarie all'interno del vano cucina con il sequestro di 20 kg di carni suine e pollame nonché l'elevazione di sanzioni amministrative per 2.500 euro complessivi è tutto possiamo chiudere questo appuntamento con Spazio Notizia per aver guardato con Spazio Notizia